Nel Consiglio Comunale di ieri il consigliere Peppe Stracuadagno, eletto con i consensi della lista, Ignazio Abate, sindaco, si è dichiarato indipendente, così come altri colleghi prima di lui. Ha deciso di passare al gruppo degli indipendenti perché non si sente più in linea con le scelte portate avanti da questa amministrazione e soprattutto dal primo cittadino, Ignazio Abate. Credevo tantissimo a questa amministrazione. Purtroppo in questi due anni e mezzo l'amministrazione ha fatto solo che ha tappato buchi, ma non è stata propositiva nei confronti della città e dei cittadini. Ho preferito dichiararmi indipendente, ciò non significa che sono opposizione, sarò indipendente, sarò quindi valuterò ogni atto. Non mi sento di poter stare accanto a questa amministrazione, a questa maggioranza, proprio perché l'obiettivo era essere propositivi.